L'essere umano da sempre nella storia ha lo stesso sentimento in qualsiasi parte dell'umanità, quindi è proprio l'idea di tornare a dare dignità morale ed economica e rispetto all'essere umano. Questo vale per tutti, in tutti i lavori. C'è una bella espressione di Adriano Imperatore quando dice non ho mai conosciuto qualcuno che dopo un comprimento non si sia sentito migliore. Quindi significa che dobbiamo ripartire da questo. E questo vale pubblico, privato, un po' dappertutto. Specialmente in un momento forse dove quel mal dell'anima che colpisce l'essere umano, da sempre nella storia, è ancora più acutizzato da questo rumore informatico proveniente dalla cultura ormai contemporanea di Internet.